Il Comune scende in campo per offrire un sostegno importante ai gestori delle spiagge. Sì, in questi giorni sono in corso i lavori di ripascimento, quindi di riporto della sabbia di fronte ai litorali pesaresi. Un intervento questo da 149 mila euro, 119 mila dei quali con un contributo della Regione Marche e 30 con una compartecipazione di risorse del Comune di Pesaro. Rispetto alla situazione, al maltempo, alle condizioni meteo particolarmente avverse, alle mareggiate, così come l'alluvione ha reso in alcuni tratti del litorale le condizioni ancora più difficili. Quindi abbiamo, ringrazio su questo l'assessore al bilancio Andrea Nobili, stanziato, fatto un ulteriore stanziamento, stiamo proseguendo in questi giorni, di emergenza di ulteriori 25 mila euro che possa garantire un intervento migliore in quelle zone che in qualche modo sono state anche intoccate dai danni dell'alluvione e dalle mareggiate, quindi in particolare in una fossa del genica e in altre zone del litorale pesaresi. Grazie.